Ciao ragazzi, Ivano Arle Davidson Monza. Oggi promo esclusiva solo in Arle Davidson Monza. Seguimi Roby. Moto da Rockstar 1250 Sposter S, modellier 2023, allestita special Arle Davidson Monza. Cupolino, frecce mini led anteriori, una bella borsa laterale, portatarga Minmial, libera tutto il cauccio posteriore, guardate che posteriore. Frecce a led, stop, integrato. La moto è in pronta consegna, va immatricolata entro il 31-12, ho pochissimi pezzi, è una special Arle Davidson Monza, costerebbe su strada 19.900 euro, la proponiamo a 17.300 euro. Special H di Monza in pronta consegna. Vi aspetto, ciao ragazzi!